ci siamo benvenuti in questo nuovo video oggi saremo su assassin's creed odyssey dalla play però sto registrando dal computer perchè come sapete ho fatto ps romater play che è una cosa in modo che ho il computer session e mi registro la play con la webcam siamo qui su assassin's creed odyssey perchè mi vanno veramente a giocare a assassin's creed tutti i giochi dalla play quindi non lo vado dalla play ma il video che farò tipo su assassin's creed lo vado dalla play perchè mi trovo bene e niente raga e oggi giocheremo un po' così su assassin's creed con la webcam tra l'altro perchè il computer come vedete qua però sto giocando dalla play adesso qua non mi ricordo dove siamo stati perchè mi ricordo che il gioco ah mi ricordo che avevo fatto qualche missione ma ancora il gioco è lungo qua dai finire con ancora le fasi iniziali allora vediamo se mi ricordo ancora come si gioca perchè non mi ricordo dal computer è strano nave, mercina ah di armi a queste mi buttavano un po' davvero danno infatti il cavallo si chiama con questo perchè non giocala tanto raga eh ad assassin's creed poco dalla play non giocala tanto devo rimanere un po' la mano non sali sali ah no la grafica non è delle migliori perchè gioco tanto riesco a coltare i video però andiamo qua bello allora siamo qua dovremmo fare qualche non so missione secondaria ci dovremmo fare qualcosa perchè non vorrei stare qua non fare nulla ehm ehm andato vorrei qualcosa da fare guarda vediamo se qualche nemico quello mi accenna al livello non mi ricordo il livello quindi mi devo vicinare andiamo non lo so ricordiamo no ehm ancora di più livello 30 no so livello no livello che non mi ricordo è che livello che non mi ricordo è che livello che mi è sfuggito mi pare il livello 16 19 non mi ricordo livello 24 si tutto del tutto ah il gioco ci siamo possiamo andare questo forte non mi muoce che sei forte raga io li guardo sto giocando anche Clash Mini al telefono non l'ho scaricato a computer perchè per impallare le cose account account finlander tutto bordero non l'ho fatto l'ho fatto 3 comunque ci sto giocando sono quasi sfidanti e 2 praticamente una foglia 2 e mi diverso perchè il gioco mi piace che sto migliorando le carte allora mettiamoci non lo voglio ecco è bello ragazzi torno a giocare Assassin's Creed è un bot che non ci giocavo mmm poi andiamo dove c'è no 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 beh no che camalevelo Non tanto Eh hanno visto Non fa niente Wow Il volume non l'ho messo Non so neanche se mi sentite bene Penso e spero di si Eh beh ma Direi attacchi pesanti vogliamo andare Mamma mia Guarda accanto qui Spezzano polenta Difesa E' morto è morto E' morto è morto Facile C'è un po' di film lag Un po' di livello basso C'è un mercenario Stai arrivando un mercenario a livello 23 Allora uccidiamo Ci provi Eh risponderavo C'è un mercenario E' morto è morto 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 Ok Ok Questo qua E' morto è morto E' morto è morto E' morto è morto E' morto è morto Questa affermini Questa è morto E' morto è morto E' morto è morto E' morto è morto mamma mia non ce l'ho scazzo cioè perchè l'ho scazzo non era messo bene di forte ragazzi molti mercenario mi ha messo livello 26 io scappo io scappo no già già di forte ragazzi stavo dicendo oggi dicendo come forte oggi non è niente ma poi regalo altri pissati ma poi mi divertirò io a farli mi spazio mi spazio ormai devo scapparci e raga quindi direi che il video termine ancora grazie a tutti della visione anche se sto campionando per farlo uscire anche per tutti gli altri noi ci vediamo in prossimo video nienteremo ciao e per essere iniziato a fare qualcosa di meglio dai non si uccide non mi ha bolletto